su con quella palla dai fate circolare la palla uno due il sette chi lo marca al sette qualcuno danni vieni qua ecco allora ti faccio entrare il sette non si deve muovere il sette non deve partire non parte il sette eh vai bello vai così così vai ma danni ma mister ma danni ha preso il giallo eh lo hai visto ma non importa tanto non era diffidato ho capito ma io solo un che lo faccio col verde fa schifo fa mister a posto il sette è in parte eh e questa ruota e te che ci fai qui ha preso il rosso hai preso il rosso ha preso il rosso eh lo so che ha preso il rosso e da stamattina faccio le fragole blu io non si possono vedere non è possibile non è possibile la lascio qui ma di chi è cotesta è del sette a me non parte ragazzi mi spiegate una cosa cosa devo fare per farmi capire gli schemi cosa devo fare devo comprare un tablet vado a comprare un tablet e non lo compi da compi e che compi da compi da compi compi tutto complimenti ma va che compa un tablet di 10 pollici super hd con l'inversione osb hd usb è tutta è bellissimo wireless ah yes complicato ma perché mi picchi oggi ma perché no perché il mio compi anno ma va compi high tech store montevarchi sansepolcro colle valdelsa forigno e su internet compi.it zona individuata sistema di apertura non clonabile movimenti meccanici basculanti ultra resistenti non cederanno mai guardi che non è un segreto è una basculante carina serrande e automazioni carini monte san savino arezzo guardi che non cedano guardi che non cedano